ciao amici sapete che giorno è oggi oggi è lunedì 20 giugno 2022 ed è lo yellow day che cosa significa è semplicemente il contrario del blue monday cioè oggi è la giornata più felice di tutto l'anno anche perché ci avviciniamo all'estate domani ci sarà il sostizio la giornata più lunga di tutto l'anno iniziano le vacanze iniziano le feste inizia la vita e quindi oggi festeggiamo lo yellow day la giornata della felicità ma da noi la felicità non dura un solo giorno a noi piace farla durare molto di più quindi per tutta la settimana abbiamo pensato a voi è una promozione solo dedicata ai nostri carissimi clienti per chi verrà a trovarci con ogni acquisto avrà in regalo un kit di pura felicità che cos'è è un preparato per poter preparare in casa biscotti cantucci o muffin basta semplicemente aggiungere gli ingredienti liquidi e avete un sacchettino già pronto con tutto il necessario per un kit di pura felicità da portare dritti dritti nelle vostre case da poter condividere con le vostre famiglie con i vostri amici e per godervi la felicità quindi buona yellow day e buona felicità a tutti a presto vi aspettiamo per tutta la settimana